Grazie Presidente. Forse da un punto di vista provocatorio avremmo potuto cominciare la nostra sessione plenaria con un minuto di silenzio per ricordare gli oltre 600 senza tetto che sono morti per il freddo in queste settimane. Questo tributo che noi in genere riserviamo ai grandi, alle persone famose, sarebbe stata un'assunzione di responsabilità, forse la prima da parte del nostro Parlamento, simbolicamente forte. Di fatto quello a cui assistiamo è che gli strumenti della democrazia partecipata, di tutela dei diritti previsti dall'Unione Europea, non riescono ad applicarsi e a farsi carico dei senza tetto, che siano cittadini dell'Unione Europea o che non lo siano. Forse perché spesso, io temo, essi non creano consenso elettorale. Il Vice Presidente Commissario Barnier ricorda giustamente che siamo in presenza di materia di competenza soprattutto degli Stati membri, però il fenomeno è sempre più europeo ed è sempre più trasfrontaliero e visibile. Ci chiediamo il calendario della strategia che abbiamo chiesto alla Commissione più volte. Ci chiediamo, oltre al progress, quanto si può stanziare dei fondi europei o compresi dei fondi europei strutturali, dei fondi per la coesione sociale. Inoltre, la libera circolazione dei senza tetto è essa veramente garantita oppure è possibile per uno Stato membro limitarla proprio perché questi cittadini, e parlo di cittadini europei, magari non hanno un luogo di residenza stabile. Infine, l'assistenza minima ai servizi. Alcuni Stati membri l'hanno rifiutata, cittadini di altri Stati membri, proprio basandosi sulle regole europee. Siamo sicuri che questo sia legalmente ammissibile. La FAO, per finire, ha stabilito che sono 179 i chilogrammi di cibo sprecati da ogni cittadino europeo ogni anno. Quale può essere la strategia europea per lottare contro questo spreco? Io credo che è questione economica, sociale, ma soprattutto di identità della nostra stessa Unione Europea. Grazie. Grazie.